L'HV significa virus dell'immunodeficienza umana. Se un soggetto viene infettato dal virus, proverà a combattere l'infezione generando anticorpi, speciali molecole che testimoniano l'avvenuta infezione ma non sono in grado di debellarla. L'HV è il virus che distrugge il sistema immunitario. L'ADS significa sindrome dell'immunodeficienza acquisita. Sindrome significa insieme di problemi di salute che compongono una malattia. Immunodeficienza significa debolezza del sistema immunitario a combattere la malattia. Acquisita significa che si contrae tramite il contatto con il virus. La malattia a livello cellulare. Le malattie infettive da batteri o protozoiche entrano nel nostro corpo in cerca di un ambiente favorevole, dove possono proliferare e di conseguenza creano problemi all'organismo, ma comunque non entrano nelle nostre cellule. Invece, le malattie infettive da virus entrano nelle cellule per inserire il loro DNA o RNA all'interno del nucleo ed ordinare la costruzione di suoi simili che infettano altre cellule. Questo perché non possono proliferarsi al di fuori delle cellule e non possono nemmeno riprodursi da soli. Le cellule interessate vengono uccise e l'organismo si indebolisce. Nel caso dell'HV questo crea un deficit negativo di cellule del sistema immunitario, lasciando il nostro organismo privo di protezioni da altre infezioni, batterie o protozoiche. In un individuo infetto il virus è presente soprattutto nel sangue e nei liquidi della sessualità e in quantità minore nel latte. Il virus, giunto a contatto con il nostro organismo, può penetrare attraverso le mucose, anche se integre o attraverso la pelle, ma soltanto tramite ferite. L'unica protezione di cui disponiamo consiste nel prevenire il contatto tra le nostre mucose e i fluidi che contengono il virus, tramite uso corretto del preservativo. Le fonti di contagio, rapporti sessuali non protetti con partner infetto, penetrazione di sangue infetto, trasmissione da madre a figlio. La diffusione, nella maggior parte le persone infette sono in Africa e qui ci sono paesi in cui il 40% della popolazione è infetto. Nei paesi poveri dell'Africa sudsariana, dove ci sono le guerre civili, la disinformazione sanitaria e l'inesistente educazione sessuale ha creato un terreno di cultura perfetto per la diffusione del virus in tutto il continente. Ci sono addirittura un 80% dei malati di ADS nel mondo. L'ADS è comparso all'opinione pubblica in America nei primi anni 80, quando i viaggi intercontinentali cominciavano ad avere una portata molto grande. Melioni di persone di popolazioni diverse hanno potuto interagire, favoreando anche virus e malattie, che sono sempre stati isolati da oceani e catene montuose. Cominciò a colpire per prima la popolazione omosessuale, che sotto determinate condizioni sociali e culturali alcuni individui avevano una maggiore possibilità di rapporti occasionali a rischio, ma questo ha dato una falsa percezione del problema. Ben presto le infezioni colpirono tutta la popolazione, anche perché questo si sentiva tutela della mala informazione dei media, che in quegli anni si chiamava ADS, la malattia degli omosessuali, sottostimando il reale pericolo. A volte, anche per motivi politici ed ideologici, tali informazioni e credenze sono state avvalorate con campagne pubblicitarie ed informative sbagliate, se non addirittura faziose. Ancora oggi c'è chi considera l'ADS un puro problema dei gay, nonostante ora la porzione di popolazione più colpita è quella derosessuale, in quanto meno informata. In Italia, da più di 15 anni, è montata una vera censura da parte degli organi di informazione governativi e statali. A differenza degli altri paesi europei, oggi in Italia, l'informazione sulla MST, malattie sessualmente trasmissibili, è gestita dall'associazione di volontariato e culturali. Facendo il test dell'HIV, che si effettua tramite un semplice pallievo del sangue, in caso di seriopositività, il test rileva la presenza di anticorpi anti-HIV, prodotti dall'organismo per contrastare il virus. Il test eseguito con la metodica ELISA è molto migliorato negli anni, per la precisione e per la velocità nel rilevare gli anticorpi dopo il presunto contagio. È chiamato anche test di screening, in quanto se positivo è necessità di un test di conferma, con altra metodica. Dire il test dell'ADS è errato, in quanto il test evidenzia solo se una persona è infetta da HIV e non si è ammalata di ADS. Infatti l'ADS è la fase terminale dell'infezione da HIV. Oggi i test sono gratuiti ed anonimi, prima erano basati sull'esame del sangue e oggi esistono anche test salivari. Ma tutti questi test danno informazioni sulla situazione di sei mesi prima. Grazie per la visione!